Nate Linhart, siamo già dall'altro lato, ancora Linhart, sfida a Cavaliero, Vujacic per Luca Vitali, il blocco di Peric, ancora Peric tenuto da Lakovic che prova a reggere il semigancio, bel movimento di Peric, molto ben eseguito, primi due punti, che guida, dirige questa azione in attacco, Peric la palla per Luca Vitali, chiede il blocco, lo tiene di Smith, ancora Vitali per Peric, Peric, la tripla del giocatore di Dubrovnik, a Bersaio, i primi due punti per il nuovo acquisto di Avellino Vitali, per Vujacic, tenuto ancora la World Wire, ancora Vujacic per Peric, la tripla di Peric, va a Bersaio, seconda tripla per Peric.